Dottor De Pellegrino, il gruppo ERA per le scuole anche della provincia di Foggia, oggi ben otto istituti scolastici della Capitanata verranno premiati nell'ambito dell'iniziativa Digi e Lode. Si rinnova il rapporto sinergico fra il gruppo ERA e il territorio della provincia di Foggia, a partire dal capoluogo dei comuni di Sansevero, Lucera e Manfredonia. Questa è la terza edizione, quindi premiamo anche quest'anno per il secondo quadrimestre dello scorso anno otto scuole con 2.500 euro a scuola, soldi che verranno utilizzati per l'acquisto di materiale didattico digitale. E quindi attraverso questa operazione proviamo a dare un sostegno agli istituti scolastici per il miglioramento della didattica, attraverso un'alleanza forte fra la scuola e i nostri clienti, che poi risultano essere anche, nella maggior parte dei casi, anche i genitori degli alunni. E quindi un supporto importante che va nella direzione di utilizzare la digitalizzazione come strumento e non come fine. Quindi oserei dire quasi un utilizzo sano di questi apparecchi in un'epoca dove, sappiamo bene, c'è un abuso molte volte degli strumenti digitali. Tutto questo attraverso comportamenti efficienti dei nostri clienti, quindi quei clienti che scaricano la app, che preferiscono ricevere la fattura online, attivare il nostro fast check-up a debito in conto, quindi atteggiamenti virtuosi che vanno anche nella direzione ambientale, possono indicare delle scuole affinché possano ricevere questi premi. Tutto questo sotto il cappello di Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile. Dottor Impiglia, come nasce Digi e Lode e come è andata qui in provincia di Foggia? Beh, direi l'iniziativa nasce inizialmente in Emilia Romagna, poi abbiamo deciso appunto anche di estenderla a questa realtà in tutta la provincia di Foggia e direi che è andata particolarmente bene. Per noi è importante andare a sviluppare quelli che sono i comportamenti efficienti dei nostri clienti, quindi riuscire ad ottenere una bolletta via email, attraverso poi anche la domiciliazione, scaricare anche strumenti che mettiamo a disposizione come il fast check-up per aumentare quelle che sono oggi le sensibilità dei nostri clienti, soprattutto per quanto riguarda il consumo. Com'è stata la risposta dalla Capitanata, dalle scuole di Capitanata? Beh, direi estremamente positiva. Oggi siamo qua appunto per premiare le scuole che sono riuscite a vincere e adesso appunto vediamo chi sono i vincitori. In che cosa si sono contraddistinte? Sicuramente direi per questi comportamenti a cui noi ci teniamo particolarmente devo dire che la risposta è stata estremamente positiva, è stata molto positiva la partecipazione e poi anche la definizione di quella che è la scuola che otterranno appunto i premi. Pertanto noi abbiamo utilizzato questi fondi per acquistare dei device e intendo quindi dei tablet, dei piccoli personal computer, proprio per personalizzare gli apprendimenti e individualizzarli a supporto di queste fasce deboli dell'utenza scolastica. Ed ora siamo con la professoressa Milena Carducci dell'Ufficio Provinciale Scolastico di Foggia. Una bella iniziativa questa promossa dal gruppo ERA che vede coinvolti diversi istituti scolastici della provincia. Questa è la seconda volta che noi come ufficio scolastico diciamo che patrociniamo questa iniziativa da parte del gruppo ERA. Le scuole della Puglia e soprattutto della provincia di Foggia hanno sempre risposto in maniera molto attiva e costruttiva a questo progetto. perché? Perché praticamente il tema fondamentale è il rispetto del pianeta e rientra nell'agenda 2030, nelle famose 5P, persona, pace, pianeta. E quindi questa iniziativa aiuta le scuole a riflettere maggiormente sulle problematiche attuali. Pensiamo al problema ecologico, pensiamo alle alluvioni, pensiamo alla biodiversità, all'inquinamento. Quindi sono tutti temi che nella scuola vengono trattati. In più il gruppo ERA consente alle scuole di ricevere in dono 2.500 euro per attivare e rimpinguare le attrezzature scolastiche, soprattutto quelle digitali. Quindi sappiamo benissimo che i nostri ragazzi sono dei nativi digitali e il linguaggio trasversale prima per noi era forse la musica, adesso è il linguaggio multimediale. Quindi chi non mastica questo linguaggio, ma non solo nei termini più semplici, ma soprattutto con i mezzi potenti che i ragazzi usano, anche perché loro programmano attività con altri gruppi di scuole, formano reti e quindi praticamente la cosa importante è proprio educarli anche all'uso corretto della tecnologia, perché purtroppo la tecnologia nasconde anche dei mostri e quindi dobbiamo stare attenti per questa cosa. Io credo che le scuole di Foggia e le scuole della provincia abbiano ben accettato questa iniziativa sia per un discorso didattico, ma anche soprattutto per un discorso, fatemelo dire, anche economico, perché praticamente i fondi che arrivano alle scuole sono veramente esigui.